Il centro-destra strappa la Basilicata a centro-sinistra, Bardi, Presidente, Salvini, ora si cambia l'Europa, Di Maio siamo il primo partito, è ora di combattere, Zingaretti, noi alternativa alla destra. L'ex terrorista Cesare Battisti arrestato a gennaio in Bolivia, ammette di essere responsabile di quattro omicidi, la confessione davanti al PM di Milano, Nobili. Dopo l'incendio del Pullman, giornata di festa a scuola a crema, i 51 ragazzini del bus sequestrato hanno incontrato i carabinieri che li hanno salvati. Visita del Papa nel santuario di Loreto, Francesco, famiglia fondata sul matrimonio uomo-donna essenziale, migliaia di fedeli accolgono il pontefice. Razzo lanciato da Gaza colpisce una casa a nord di Tel Aviv, sette feriti compresi tre bambini, Netanyahu attacco criminale, reagiremo con forza, inviate truppe al confine. Buongiorno dal Tg3, dopo 24 anni sconfitto il centrosinistra in Basilicata, vince il candidato di centrodestra Vito Bardi, il nuovo presidente della Tg3.